Flavio e Loredana erano sposati da cinque anni, e vivevano a Milano, immersi nella frenesia della città. Flavio, lavorava come programmatore, per una grande azienda di software, mentre Loredana, era insegnante in una scuola elementare. Anche se amavano la loro vita a Milano, sentivano che mancava qualcosa. Entrambi erano appassionati di vino, adoravano visitare cantine, e partecipare a degustazioni. E da tempo, sognavano di aprire un'azienda vinicola tutta loro. Un giorno, decisero di trasformare quel sogno in realtà, e fare del vino, il loro lavoro. Flavio avrebbe lasciato il suo lavoro come programmatore, e Loredana, avrebbe detto addio all'insegnamento, per dedicarsi a questa nuova avventura. Iniziarono così, a cercare una casa in vendita in Toscana, una regione che amavano, per i suoi paesaggi tranquilli, e le colline ricoperte di vigneti. Dopo mesi di ricerche, trovarono un delizioso casale, tra le colline di Montalcino, immerso tra viti, e grappoli d'uva. Era il luogo perfetto, per avviare la loro azienda vinicola. Trasferirsi fu emozionante, ma i primi mesi furono difficili. La vita in campagna, era molto diversa da quella di Milano, e gestire un'azienda vinicola, richiedeva molte competenze. All'inizio, incontrarono numerosi ostacoli. Prima di tutto, non avevano esperienza, nella coltivazione della vite, e dovettero studiare molto. Inoltre, i costi per iniziare, erano più alti del previsto. Si resero conto, che vendere il vino, non era facile come pensavano. C'erano molte regole da seguire, e la concorrenza era forte. Loredana, imparò a gestire le vendite, mentre Flavio, si dedicò alla cura delle vigne, e alla produzione. Dopo un anno, riuscirono a produrre il loro primo vino, e lo presentarono in alcune fiere locali. La loro vita era cambiata completamente, rispetto a Milano. Non c'era più il rumore del traffico, o la fretta della città. Ogni mattina, si svegliavano circondati dalla natura. Invece di prendere la metropolitana affollata, iniziavano la giornata, passeggiando tra i filari delle loro vigne. Tuttavia, dopo un anno di duro lavoro, durante l'autunno, un violento temporale si abbatté sulla zona. Flavio e Loredana, erano seduti in cucina, e sentivano le finestre tremare sotto la furia del temporale. Si guardavano negli occhi, con il cuore stretto dall'angoscia. Non potevano aspettare oltre, e dovevano fare subito qualcosa, per salvare il vigneto. Con il cuore che batteva forte, indossarono gli impermeabili, e corsero subito fuori nella pioggia torrenziale. Il terreno era scivoloso sotto i loro piedi, e ogni passo sembrava un'impresa. Arrivarono alla vigna con il fiato corto, e videro le piante, piegarsi sotto la forza del vento e della pioggia. Alcune piante erano spezzate, altre erano state sradicate. Flavio fissava nel terreno i pali che sostenevano le viti, per evitare che le piante si rompessero del tutto. Loredana, cercava di coprire i grappoli d'uva con dei teli di plastica, ma ogni volta che li posizionava, il vento li strappava via. Il loro lavoro sembrava inutile, contro la furia del temporale. Le loro voci si perdevano nel rumore della pioggia, ma il loro amore per la vigna, era troppo forte per arrendersi così. Ogni vite, ogni grappolo, era un pezzo di quel sogno che avevano costruito insieme, con fatica e sacrifici, e per questo, dovevano lottare. Dopo ore di lotta contro la tempesta, Flavio e Loredana, avevano messo in sicurezza una parte della vigna. Il loro lavoro era finito, così tornarono a casa abbracciandosi stretti, ma bagnati fino alle ossa e sporchi di fango. Il temporale continuava a infuriare, ma loro sapevano di aver fatto tutto il possibile. Il giorno dopo, c'era il sole, e quando Flavio e Loredana andarono a controllare il vigneto, videro che molti grappoli d'uva erano stati distrutti dal maltempo, e alcune piante erano state sradicate. Quella perdita li scoraggiò moltissimo. Tutto il lavoro di mesi sembrava svanito, in una notte di pioggia. A quel punto, Flavio e Loredana iniziarono a pensare di arrendersi. «Forse abbiamo sbagliato a lasciare Milano», disse Flavio con tristezza. Anche Loredana era scoraggiata. «Forse è meglio tornare ai nostri vecchi lavori», aggiunse. La situazione sembrava troppo difficile, e i due cominciarono a parlare seriamente, di tornare in città, dove tutto era più sicuro, e prevedibile. Un giorno, mentre erano al mercato locale, per comprare alcune provviste, conobbero Roberto, un anziano viticoltore del posto. Flavio e Loredana raccontarono a Roberto delle loro difficoltà, e del loro desiderio di arrendersi. Lui li ascoltò con attenzione, e poi decise di aiutarli. «Ho avuto anch'io momenti difficili, soprattutto all'inizio», disse. «La viticoltura è fatta di alti e bassi. Se vi piace davvero, quello che state facendo, combatterete per il vostro sogno». Roberto, offrì loro alcuni consigli pratici, su come recuperare le vigne danneggiate, e su come proteggere le piante per il futuro. Inoltre, li invitò a visitare la sua cantina, per vedere come gestiva la produzione del vino, in situazioni difficili. Grazie a lui, Flavio e Loredana, decisero di non arrendersi. Flavio lavorò duramente, per sistemare il terreno, e ripiantare le viti danneggiate. Loredana, nel frattempo, si occupò di gestire le vendite, e di trovare nuovi clienti, interessati al loro vino. Grazie al loro impegno, e all'aiuto del loro nuovo amico, riuscirono a salvare buona parte del raccolto. Flavio e Loredana lavoravano tutti i giorni nel vigneto. Quando l'uva era matura, raccoglievano i grappoli, e quando tutte le ceste erano piene, le portavano nella cantina con un piccolo trattore. Nella cantina, schiacciavano i grappoli, e il succo veniva messo in grandi botti di legno, in attesa di essere imbottigliato e venduto. Alla fine di quell'anno, avevano prodotto un vino eccellente, nonostante le difficoltà. Per festeggiare, avevano organizzato una piccola festa nel loro casale, invitando Roberto, e gli altri vicini, per brindare al loro successo. Spesso, la sera, si sedevano in giardino, con un bicchiere del loro vino, guardando il sole tramontare sui vigneti. Non avremmo mai immaginato di essere così felici, diceva spesso Flavio. La tranquillità e la natura, avevano portato una serenità, che non avevano mai provato a Milano. Anche se a volte, sentivano la mancanza della vita cittadina, e dei loro amici, erano felici della scelta fatta. Ogni bottiglia venduta, era una vittoria, e ogni commento positivo, li rendeva fieri del loro lavoro. Ora, invece di guardare solo al futuro, si godevano il presente, apprezzando ogni momento della loro nuova vita, tra le colline toscane. Ora, impariamo il significato di alcune parole, che abbiamo incontrato nella storia. Essere appassionato di. Essere appassionato di, significa amare molto qualcosa, e dedicare tempo o attenzione a questa cosa. Esempio, Marta è appassionata di libri gialli. Degustazione. Degustazione, significa assaggiare e valutare cibi o bevande, spesso con calma e attenzione. Esempio, alla festa di Maria, c'era una degustazione di vari tipi di cioccolato. Vigneto. Un vigneto, è il terreno dove si coltivano le viti per produrre l'uva. Esempio, il vigneto di mio nonno produce un vino pregiato. Azienda vinicola. Un'azienda vinicola, è un luogo dove si produce e vende vino. Esempio, l'azienda vinicola della mia famiglia produce vino da generazioni. Competenze. Le competenze, sono capacità o abilità in un certo campo o attività. Esempio, le competenze linguistiche sono importanti per il lavoro di Gianni. Concorrenza. La concorrenza, è quando più persone o aziende, cercano di fare meglio degli altri nello stesso campo. Esempio, c'è concorrenza tra le squadre di calcio, per vincere il campionato. Filari. I filari, sono file ordinate di piante, specialmente nelle vigne. Esempio, i filari di viti si estendevano fino all'orizzonte. Abbattersi. Abbattersi, significa cadere o colpire con forza su qualcosa. Esempio, la tempesta si è abbattuta sul mare con violenza. Mal tempo. Il mal tempo, è tempo brutto, con pioggia, vento o tempesta. Esempio, a causa del mal tempo, il nostro volo è stato cancellato. Viticoltore. Un viticoltore, è una persona che coltiva l'uva per fare il vino. Esempio, mio nonno era un famoso viticoltore della zona. Lavoro nella vigna. Il lavoro nella vigna, è il lavoro che si fa nei vigneti, come curare le piante, o raccogliere l'uva. Esempio, il lavoro nella vigna è essenziale per produrre un buon vino. Prevedibile. Prevedibile, è qualcosa che si può capire in anticipo, o che succede come ci si aspettava. Esempio, l'arrivo della pioggia oggi era prevedibile. Infatti hanno detto che pioveva. Alti e bassi. Alti e bassi, significa che ci sono momenti positivi e momenti negativi. Esempio, il lavoro di Luca alti e bassi, e a volte va bene, altre volte no. Vendemmia. La vendemmia, è il momento in cui si raccoglie l'uva dai vigneti per fare il vino. Esempio, Flavio ama il periodo della vendemmia, quando l'uva è pronta. Imbottigliare. Imbottigliare, significa mettere il vino o altri liquidi dentro le bottiglie. Esempio, dopo la vendemmia, Flavio imbottiglia il vino. Se ti è piaciuta la storia, metti un mi piace, o iscriviti al canale. Grazie per l'ascolto. Grazie. Grazie.